È stata una grande partecipazione, c'è stata una grande prova di partecipazione democratica come il nostro partito è abituato a fare ormai da anni. La percentuale, gli obiettivi che ci eravamo dati, con qualcuno di voi avevo parlato, immaginavamo di riuscire a coinvolgere 30.000 simpatizzanti, tesserati in provincia di Salerno il risultato è stato abbondantemente raggiunto e superato così come anche l'obiettivo che avevamo immaginato di poter raggiungere a Salerno 5.000 votanti è stato abbondantemente superato, credo che riusciamo a raggiungere i 6.000 votanti. Quindi siamo ai numeri delle primarie fatte tra Renzi e Bersani dove il nostro partito era al 40%. Quindi nonostante dopo le elezioni politiche il nostro partito abbia avuto un evidente segno di frenata, di arretramento, all'interno la voglia di partecipare rispetto alla nostra città e alla nostra provincia che tra l'altro riesce ad avere un dato in controtendenza rispetto al dato nazionale quanto meno quanto ha candidato, votato, significa che il nostro partito è un partito in vita, in forza, ben organizzato e questo fa tra l'altro il paio con le tante battaglie vinte in quest'ultimo anno e mezzo quindi con la mia segreteria perché noi siamo riusciti a conquistare tanti comuni nella provincia di Salerno quando il dato nazionale era in assoluta controtendenza 5 Stelle e Lega abbiamo vinto a Ponte Cagnani e in altri comuni della nostra provincia abbiamo vinto le elezioni provinciali, abbiamo perso le politiche perché effettivamente in quel momento storico che crediamo, speriamo sia un poco superato, di poco superato il nostro partito non era affidabile, non era considerato come dire attraente e attrattivo Esatto, la linea De Luca c'è sulle annunziate, è una persona molto vicina al governatore Vincenzo De Luca credo mi risulta che sia stato proprio uno dei nomi indicati su cui il governatore De Luca ha assolutamente puntato è lì che effettivamente si riesce a individuare la capacità attrattiva di De Luca all'interno del partito cioè che il nome indicato dal governatore De Luca in regione Campania riesce ad avere un risultato di gran lunga superiore rispetto alle aspettative e agli altri competitor Per quanto riguarda l'elezione nazionale, ciò che importa, dicevamo, i 2 milioni, credo che siano 1 milione e 8 di elettori anche qui una partecipazione importante che quindi dà il conto della rappresentazione plastica di un partito che è in forza e vuole riprendersi Le percentuali su Salerno, a Salerno città il 60% ha votato per Martina e il 33% per Zingaretti in provincia di Salerno il 51% ha votato per Martina e il 43% per Zingaretti quindi significa che in provincia di Salerno e nella città Capologo la mozione Martina ha avuto la meglio Il governatore non ha votato, non me lo dite voi, io non ho contezza di questo credo che neanche Calenda abbia votato, oggi ho sentito De Luca no, ma Calenda sì Calenda ha detto che erano tutte e tre delle persone amiche e non pensavo di non fare torto a nessuno non votando, cioè non ho voluto far torto a qualcuno, evidentemente anche il governatore ha pensato lo stesso dovreste chiederlo a lui non a me